Ciao ragazzi e bentornati. Oggi siamo qui per vedere se gli short e i video normali possono coesistere insieme nel nostro canale, quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Tanto tempo fa, in un universo lontano, quando gli short erano appena stati implementati, YouTube utilizzava un unico algoritmo per entrambi. YouTube però, una volta che gli short sono stati implementati appunto nella piattaforma, non riusciva a distinguere le due cose, non riusciva a capire, diciamo, l'algoritmo non riusciva a capire che video proporre alle persone e soprattutto di che durata, perché l'algoritmo stava pensando che visto che le persone passavano tantissimo tempo adesso a guardare gli short, che sono dei video di 60 secondi o meno, e una persona, un utente può passare un'intera giornata a guardarsi gli short e non guardare i video normali, diciamo che YouTube cominciava a proporre alle persone solo video corti, anche quando si tratta di video normali e non di short, perché appunto l'algoritmo capiva che alle persone interessavano i video corti e quindi proponeva solo video corti, lasciando stare, diciamo, con i lunghi e non proponendoli neanche, e quindi questo penalizzava un sacco di persone, perché appunto i loro video non venivano suggeriti nelle home delle persone. Per fortuna questa cosa è stata modificata e cambiata nel corso del tempo e quindi adesso gli short e i video normali di YouTube hanno due algoritmi diversi, quindi oggi gli short e i video normali di YouTube possono convivere nello stesso canale senza darsi fastidio. Per funzionare però lo short deve avere un senso, deve essere fatto con una logica, deve avere un inizio, uno svolgimento e una conclusione come per i nostri video di YouTube normali, come i nostri video da 10 minuti. Molte volte le persone non capiscono come si utilizzano gli short e lo usano, diciamo, come per esempio uno spezzone del video, fanno vedere uno spezzone del video sul feed degli short, pensando che poi le persone continuino la visione del video sul loro canale, che però poi non è così semplice, perché la persona quando sta guardando il feed degli short, lo sta guardando perché vuole avere dei contenuti veloci e che cambino rapidamente. Se la persona pubblica lo short che sia uno spezzone del video che ha pubblicato per intero sul suo canale YouTube e la persona che lo sta guardando gli interessa anche vedere questo video, però poi deve cliccare sulla vostra faccia, deve andare in cerca sul vostro canale YouTube di quel determinato video, poi deve andare avanti perché la prima parte l'ha già vista, perché l'avete messa nello short, quindi non è così semplice, è un po' macchinoso e questo metodo infatti non funziona. Lo short per funzionare deve essere come un video di YouTube ma raggruppato diciamo in 60 secondi, quindi con un inizio, uno svolgimento, una conclusione che sia autoconclusivo. Il vantaggio di questo strumento è che il tuo canale può essere sia tempestivo sia accurato, con la tempestività si intende che appena esce una novità o appena c'è una notizia nuova puoi diciamo battere sul tempo i tuoi concorrenti facendo uno short e lo short sì o no si fa nel giro di 2-3 minuti perché dura appunto 60 secondi, è molto corto, poi puoi pubblicarlo direttamente senza filtri, senza editing, senza niente, puoi battere diciamo la concorrenza in velocità e poi puoi più avanti fare lo stesso video però spiegato meglio e quindi diciamo approfondito accurato. In questo modo nel tuo canale si può avere sia la velocità quindi con gli short, la tempestività degli short ovvero che appena le notizie o comunque le novità vengono fuori vengono rilasciate con gli short e poi anche l'accuratezza con i dettagli che vengono spiegati nei video da 10 minuti. C'è però da considerare che un canale solo di short non può sopravvivere diciamo cioè sì non è che non può sopravvivere non può monetizzare almeno fino ad oggi perché le ore di visualizzazione provenienti dagli short non vengono calcolate nelle ore di nelle famose 4.000 ore per arrivare alla monetizzazione quindi se una persona vuole fare solo short sa che purtroppo ad oggi a meno che non cambiano le regole prossimamente non può monetizzare con quelle ore di visualizzazione però deve basarsi appunto sulle ore di visualizzazione sulle ore di visualizzazione dei dei video normali di youtube per questo motivo le due cose vanno proprio a braccetto insieme se utilizzate bene tutte e due se siete interessati alla questione degli short vi lascio alla fine di questo video un altro video che avevo già pubblicato nel canale che parla appunto di questo argomento e lo trovate subito appena finisco di parlare e se avete delle domande scrivetemelo pure qua sotto nei commenti che sarò sempre felice se posso di rispondervi di aiutarvi e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi